Ciao a tutti ragazzi, sono GongSavidol, benvenuti in questo nuovissimo video, siamo nuovamente con Fixer e Dera Allora, siamo in una mappa che si chiama Campominato Ci sono delle regole particolari, ci sono delle palle da sparare che ti danno un numero da 1 a 3 Tu puoi dec... cosa stanno facendo questi due? Ogni volta qualcosa deve succedere Allora, dove ero rimasto? Tu puoi muovere te stesso da 1 a 3 posizioni oppure uno dei due avversari Hai un impulso per lanciare te stesso nella safe o lanciare un amico a caso E hai 3 vite, l'ultimo che rimane in vita... cioè, vince Quando volete ragazzi, parto Ok Si sono capite bene le regole? No Spero di sì Non le ho scontate Fantastico Ecco le palle che stavate chiedendo Oddio, fermi, fermi, la vuole di correre tanta Ecco Cosa devo fare? Siamo nella safe zone qua Cosa stai facendo? Questa è la safe zone Si parte da qua al centro Ah Ah, ok, ok Allora non avevo cazzo Ma è... Si parte qua dal centro Ma mi trolla? La safe zone sarà dentro questi quadratini, no? Ah Ho perso una vita Era bellissimo, ragazzi Tornate indietro, non voglio che perdiate una vita anche voi No, sono fermo Vabbè, visto che la safe zone è qua Non si sa mai No, no, dico, è dentro i bordi, capito? Mentre quando tu sei andato lì sei uscito dai bordi Ah Vabbè, vabbè Ok Eh, chi inizia raga? Io Ok Spara la palla e facci sapere il numero Ho sparato Eh... Cade da su Non è successo niente La risparo, va? Ok, ora è salita Ma Ok, due Due Quindi? Puoi muovere me, Dara o te stesso In qualunque direzione In qualunque direzione Ok, Dara Perché non sei al top? Scusa, eh Scusa, scusa Vai Vai in diagonale a destra con i secondi neri Diagonale a destra di due Eh, lo sai che i tuoi sono neri I miei sono di un altro colore Eh, va Non è vero Sono neri anche i tuoi Lo vedo Ah, questi Eh, vai in diagonale a destra Ma io muoio qua Ah, no Ma quella è la sinistra Ah, la destra Ok Oddio, vabbè ragazzi Non l'ho capito Questo video inizia bene Vado io Sparo io All'obiettivo quale? Rimanere Non muovi degli altri Non mi è salita la palla Last man standing Sì, è salita, l'ho vista Adesso sì Ma non sta dando il numero Ok, numero uno Uno Mi muovo io di uno in verticale Grazie al cavo Vabbè Tocca me Ah, uno Uno Vabbè Mi muovo io in diagonale Così Ah, sei tornato dentro Nooo Ho tornato dentro Sì Perché il punto direi che è mandarci fuori Sì, sì Lo Eccola Il punto è proprio quello Numero due Due di nuovo Ancora Allora, Gonx Sì, mi dica Disposti in laterale a destra Rispetto al percorso Vai Quello è uno No, uno era questo E questo è il secondo È giusto Ah, è lì al centro Sì, era al centro Ok Mamma mia, ho avuto paura Anzietta Sì, un pochino Sparo Dai C'è un impulso lì al centro Eh, quella mia Dove sono morto io Non mi ha fatto vedere il numero O non l'ho visto io Vabbè, risparo Ah, sta salendo Adesso sta salendo Tre Uh Tre Tre, tre, tre Fixer Tre in diagonale A sinistra Eh, addio Uno Due Visto che ti piace muovere gli altri E tu non ti eri ancora mosso Un agliottino È giusto È giusto così Vero? Oh, cavo Sì, vabbè Diecimila di vita Cosa serve? Uno Vabbè, in diagonale Sempre Oh E che mi ha colpito Ti ha fatto apprendere un calma Ma io Vabbè, io sono dritto qua L'ho già preso Io mi sto muovendo da solo No Certo Oh mio Dio Non ci credo Non ci credo E puoi farle in qualunque momento così Quando vuoi in qualsiasi turno L'ho detto L'ho detto Non ci credo Ok, l'unico che ha ancora tre vite Ed era adesso Ma non ho letto neanche il numero Ma se Eh, mi dispiace Eh, adesso ti faccio esplodere io No worry Ah Eh, era un due Due Gonks, sei pronto? Mi dica Sei pronto a morire? Sì, sì Vai, due in diagonale Verso di me Uno Vai Boom Ma porca Eh, volevi Tutti che sparano, ragazzi È fastidioso A chi tocca? Aia Oh, tre Tre, 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 tre Mi muovo io Sei mortissimo Verso questa parte Uno Due Addio Boom Tre Non è possibile Ma ce n'è mine, ragazzi Ce n'è Ce n'è Ce n'è Ce n'è L'ho presa anch'io, ti ricordo Dera Eh, ho già sparato Così è uscito Vabbè, ragazzi Faccio solo uno Uno Incredibile Non ho voglia di uno Eh, vabbè Eh Dai, ecco il tre Così Vediamo, Fixer Dove vuole mandare Gli avversari Maledì Tre Di nuovo Tre No Avanzo io di tre Vuole avvicinarmi al gioco Ok Aspetta Eh, io dove devo arrivare No, no Non devi uccidere gli altri Devi riuscire a muovere gli altri Per farli uccidere E salvarti tu Non hai capito niente Non avevo capito niente Oh, ma che numero mi è uscito? Vabbè Tutti i ragazzi Raga, non mi escono i numeri Devo sparare sempre due volte E devi sparare due volte Ma due volte ha la stessa palla Ah, due Due Due, due Due, Fixer A destra Ma solo con me ce l'hai? Eh, no In effetti hai ragione Lo sai A destra quanto? Hai ragione A destra i due No, no Ormai l'hai detto A destra orizzontale Eh, beh sì Orizzontale Perché Madonna Dera Ok Tocca a te Tocca a me Ah, non pregate i colpi L'ha detto Sono dito fermi Due Finalmente Non hai capito Gonx Muoviti di due in avanti Oh, meno male Ciao 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 È bellissimo Ciao Oddio Eh, basta che non vedo i numeri Ah, scusi Non vedo Non è salito Ah, sì, era tre Vabbè Lo usiamo? Sì, sì No Usiamo Dera, sei pronto? Che tu non sei ancora morto? Vieni verso di me Non in diagonale No Non ci credo Adesso vieni Verso di me Non in diagonale Di tre Uno Dai Due Eh Non ci credo Non ci credo Eh, scusate Eh, vabbè Non fa niente Cioè Non puoi usare la moto All'interno del gioco Però Ah, cavolo Anche perché Le mine, le trigger Ci scappi, capito Cosa ti è uscito? Perché spari me? Cosa mi è uscito? Eh, tocca a te Devi sparare Ma se l'ha appena giocato Tocca a te Tocca a me Oddio Sì Svegliati Non tenta di spararmi Dera Eh, non ti svegli Giuro che sto arrivando Uno Ciao, Dera Non ci Dera, uno Uno in verticale Dera, uno in verticale Uno in verticale? Dera, uno in verticale Verso fixer Vediamo Era quello giusto Dai Tocci No, non lo ha certo È immortale No, non lo ha certo Ti più vicino Oh, basta Non esplosa Non l'hai beccato Uno L'hai sprecata No Devi spostarti in qualche direzione E lì potresti esplodere Guarda No, sei tu Vai a destra Ah, è perfetto Qui? Sì Bravissimo No Vai a morire Vai Vado così Vai È salvo È salvo È salvo Boom, boom, boom Ok, vediamo quanto esce Uno Dera, tu secondo me lì eri abbastanza a rischio Vai ancora di uno verso Gonx Boom Boom No Non è possibile Il soldatino Farò di tutto per far esplodere Dera Adesso puntiamo solo a far esplodere lui Dera, tre alle tue spalle Uh, no Ma è arrivato da lì Uno Due E tre No, Gonx Ma non è arrivato da lì È arrivato da Non è arrivato in verticale da te Cioè No No No, vabbè Andiamo a ucciderlo Grandissimo Se faccio uno Non vale Sto facendo sempre Ah, tre Mi muovo di tre Dentro questa zona Oh Addio Dera Non vuole essere sempre immortale No Ma fermi tutti Ma si può risplodere nelle stesse Certo Non lo sapremo mai Penso proprio di sì Fatto Due Allora Dera ormai è in safe Lo riavviciniamo Cosa dici? Sì Sì Aia Vai due in diagonale Verso di me stavolta Boom Ci mancava solo che scadesse nuovamente Aia Quante vite avete? Una Io 9300 Una Ah, due Due come il numero che mi è uscito E mi muovo in due in verticale Dai un altro tre Su Non può uscire in un altro tre Dai Tre Incredibile E mi muovo Di tre verso Fixer Vieni Vieni a esplodere Uno Boom Due Boom E tre Oh Per un momento ci ha sperato Fixer Ah, scusa Dai eh Non c'è creato Quando la sua prossima esplosione? Tre Ho visto una scia Vieni qua Vieni 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 No, io non ti conto No, no, vieni Sei costretto Affianco a me In questo Ho fatto tre Vai Vai Quello è buono Boom Allora esplodi qui Esplodi qui Dai, lo voglio vedere Non ci credo Vediamo cosa mi esce Due Due, due, due Dera verso il muro che c'è lì Il muro che c'è lì Dietro Dietro, esatto Due Addio Non ci credo Ma questo può camminare dove vuole Non c'è problema Sì 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 Boom boom Numero Bandierina numero Numero 3, 2 Non ci credo Fixer, vieni verso di me Fai Uno Due E tre Oddio Sono morto per fa Dai Dai Oh Ma so morto anche io Oh mio dio Non lo so raga Come conta Eh Non possiamo ridarci le vite Mi sa Ripder Hai rischiato No Che ci vuoi fare Siamo tutti a una vita adesso Vai Fixer E tocca a me Tre Ho fatto tre Avanzo di tre Ok Mo' ho splod così a cazzo Hai finito Ti sei suicidato praticamente Uno Avanzo di uno Qua Un pazzo Un folle Perché ti stai suicidando Non mi sto suicidando Tre Perché sei fisso saltando Anzi Perché mi state fisso sparando Fixer Vai in diagonale Verso sinistra Quindi verso gong Di tre Oh ma questo sta facendo solo tre Incredibile Muoio per forza No non penso Ma ce l'ha sempre uno No raga Muoio per forza Prima di morire Devo per forza Usare un impulso Puoi salvare Non ci credo Potrò salvare me stesso Non ci ho pensato Esatto Sei salvo Comunque Perché non sei morto Mori adesso Ora tu uccidi No Tocca a me Tra l'altro c'è un impulso Al centro da recuperare Ma ci vado No no è mia quella Numero uno Uno Tonks Siccome dovevi morire con l'impulso Vai verso Dera di uno Verso così O verso diagonale Verso Dera Dera No ok Sì Grazie Grazie Abbiamo tutti una vita E Dera è ancora in safe Cosa facciamo Ma infatti faccio tre Lo faccio muovere adesso Non mi interessa Ecco appunto Ho fatto tre Dera in diagonale Verso a destra Perfetto Uno Due Ma se faccio tre Torno indietro Maledetto Dai Ha fatto tre Non ci credo Fa schifo Prima Beh Non ci credo Non ti prende No Sprecata Sta davvero tornando indietro? Anzi Aspetta Aspetta Ma scusa posso fare tipo Torno indietro E poi No Eh sì Di cosa Vabbè Allora mi muovo in diagonale Verso questa zona qua Opla Cavolo Vai Fixer Pronti a morire? Uno Al prossimo turno Morirà per forza Numero tre Dera Vai in diagonale Destra Di tre Dai Dera ci saluta Ragazzi Dera ci saluta Preparati Fixer Preparati Ti sei tolto tu una Uno Verso La tua sinistra Qui Sì Mamma mia Adesso ansia ragazzi Non abbiamo neanche più impulso No Due Numero tre Non ci credo Sei pronto? Dai avvicinatevi Avvicinatevi No 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 Deve fare tre Verso L'ipotetico Dera In verticale Non puoi sbagliare Uno C'è bisogno di fortuna Aspetta un secondo Due Dai questo Sporre per forza No Perché sono Secondo Ho vinto Fixer Ah no ma Tutti i primi No ho vinto io Chi muore prima vince Sì certo Bene ragazzi Per questo video è tutto Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Condividete Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Social in descrizione Canale di Dera Canale di Fixer Ci vediamo in un prossimo video Grazie Arrivederci Alla prossima